Angelina, infuriata. Giuseppe, non so davvero cosa fare. Hai qualche idea? Giuseppe, annoiato. No, lui è il tuo ragazzo, non il mio. Qualche minuto più tardi. Che ne pensi di delle grandi lettere in cartone? Angelina, saltando di gioia, questa è una grande idea. Le dipingherò. Di blu e di bianco e ogni lettera significhera qualcosa. Giuseppe, ancora annoiato. Molto bene, ora possiamo andare. I due ragazzi comprano le lettere di cartone e torna a casa. Angelina passa tutta la notte preparando le lettere per il giorno seguente venerdì. Finito il lavoro, le lascerei asciugare ed è mosiantissima per quello che sarebbe successo il giorno seguente a dormire. Angelina, allora, Giuseppe, tu cerca la palestra insieme a Michael per tenerlo occupato. Io ti chiamarò quando avrò finito di preparare tutto. Inizia a filmare quando mi vedi. Ok? Giuseppe, irritato. Va bene, lo so, me lo hai già detto cento volte. Dopo un lungo traguito in macchina, arrivano all'hotel. Angelina poteva al malapena conne tenere il suo entusiasmo. Era, sorpresa di essere riusciuta a mantenere il seguito così a lungo. Pianificò di preparare tutto nel pomeriggio, una volta che avrebbe avuto tempo. Angelina, hey, potete iniziare a venire qui? Giuseppe, va bene, partiamo adesso. Angelina, non dimenticarti di iniziare a firmare. Poi ansiosa. Aguinissi. Mike non può sentirmi? Vedo. Giuseppe, ridendo. No, siamo a posto. Angelina, tranquillizzata. Molto bene. Ci vediamo tra pochissimo. Giuseppe, ancora ridendo. Ok. Angelina mette giù il telefono a Giuseppe per poi chiamare Mike qualche secondo più tardi. Angelina, hey, amore, come va? Mike, infuriato. Siamo appena arrivati in palestra dopo avera, cercata per mezza ora. Perché sei andata a Ponte oggi? Ci andriamo domani. Perché sei andata da sola? Avresta dovuto aspettarci. Angelina, giandano, ciao se e se, tesorso smettiali di parlare e vieni qui. Mike, arrabbiato. Ok, perfetto. Ciao, Angelina. Ciao, ciao. Qualche minuto più tardi, Angelina sta ancora aspettando i suoi amici. Inizia ad andare in panico perché non li vede arrivare. Giuseppe, ridendo. Mike, guarda per terra. Mike ancora arrabbiato e ora anche confuso. Camina verso Angelina e guarda per terra. Ridendo tra se e se, Angelina lo guarda in viso, mentre legge sulla sua faccia confusa che inizia a capire. Grazie. Grazie.